Ciao raga, benvenuti in un mio nuovo video! Ciao ragazzi! Oggi io e Franci partiamo di nuovo e andiamo nella città degli innamorati Io non ci sono mai stato lì! E nemmeno io amore! Andiamo a Verona raga e amore sai che andiamo a vedere anche la casa di Giulietta? Perché quella di Romeo? È una proprietà privata, poi vabbè vi spiegherò tutto ma adesso... Me l'hai ripetuto quattro volte! Sì sì ma adesso partiamo subito, andiamo! Prima siamo passati al McDonald's, stiamo ordinando Siamo arrivati! Ce l'abbiamo fatta dai! Quanto ci abbiamo messo? Due ore no? Un'ora e quaranta! Questo è il nostro hotel, Chloe non tirare! Siamo arrivati in questo parco che è vicino al nostro hotel, ma è bellissimo! Cioè guardate che cosa abbiamo trovato, queste giraffe altissime! Dove vai? Vai, fallo andare! Vai Chloe, vai salta! Cioè ma al parco non li fai percorsi per i cani? E li fai qua! Andiamo, andiamo, andiamo! Amore in mezzo! 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 No garage Amore in mezzo! O practicamente si lại conare la notizia! Amore in mezzo! 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 Ad Oak Toro ho l'argo per rider gamer! E quindi av Afghanistan più grande persone che hanno segnata di movimento. Amore in mezzo! Grazie a tutti. La camera è bellissima, siamo appena arrivati e mi piace tantissimo, ma andiamo subito a vedere il bagno. Adesso mi preparo perché dobbiamo uscire. Fran ci sta un attimo riposando, io scelgo un bel zestino e usciamo. Cerchiamo un ristorantino dove andare a cenare. Sono pronta, volevo mettermi i tacchi, ma non mi conviene perché dobbiamo camminare. Come sto, amore? Io sto bene. Dai, guarda chi c'è dietro la tenda. Ciao, patatina! Cosa? Ma... Dai, muori, andiamo a mangiare. Va bene. Ciao! Siamo arrivati all'Arena di Verona, non ci credo, guardate quanto è bella. Non me l'aspettavo di trovarla qua così. No, no, precisa quello che hai detto. Cos'è che ho detto? L'hanno messa qui in mezzo a tutto. Comunque raga, domani se passiamo di qua ve la rifaccio vedere perché adesso la vedete con le luci e di sera. Abbiamo trovato questo posticino molto carino, tra l'altro abbiamo l'Arena di Verona qua davanti, cioè guardate. C'è buio, non si vede tanto. Abbiamo finito di mangiare, ma guardate, guardate dove siamo, mio Dio. C'è il negozio di caramelle, ora entriamo. Voglio vedere il D. Non ci credo. Ciao, amore. Quella che vi ho appena fatto vedere è Piazza delle Erbe. Ci stavamo chiedendo, ma che piazza è questa? Chloe, siamo arrivati al calduccio. Chloe non vede l'ora di entrare, anche perché fuori fa freddissimo. Non potete capire, fuori c'è il gelo. Ecco, ma me l'ho convinta di averlo ancora qui, Chloe. Ciao, come... Guardate che cosa ho trovato. Chi è che è stato a bussare? No. Chi è che è stato a bussare, è stato a bussare, è stato a bussare, è stato a bussare. Choe, cosa stai facendo con questo velo da sposa? Buongiorno, raga. Franci sta ancora dormendo. E io ne approfitto per strapazzare la mia cucciolata, che al mattino è super dolce. Buona palazione, amore. Grazie, amore. Ce l'hanno portata in camera. Chloe non è per te. Wow. Amore, io non voglio andare via. E' tardi, è tardi. No, io non voglio qua, devo fare... Comunque adesso andiamo e lasciamo la nostra camera. Chiuso. Ecco l'arena di Verona di giorno. Volevamo entrare nell'arena di Verona, ma c'è un problema, appena chiesto una signora col cane si si può entrare. Sapete cosa ci ha detto? Se lo teniamo in braccio, sì. E come me lo tengo in braccio? Raga, 25 chili di cane, non possiamo entrare. Ammeriamo questo splendore dall'esterno. Chloe, se fossi stata ancora cucciolata, saresti potuta entrare. Ma così non possiamo tenerti in braccio. Visto che non siamo entrati nell'arena, adesso stiamo andando a vedere la casa di Giulietta. Giulietta! Questo è il tuo Romeo, Chloe. Chloe è agitata, ma anche lui! Siamo usciti dalla casa di Giulietta, adesso stiamo per comprare dei lucchetti, perché... Andiamo a metterli sul ponte. Esatto. Ah, certo. Pollo e melograno erano. Abbiamo scoperto che non c'è nessun ponte, perché hanno levato tutti i lucchetti dove li avevano messi prima. E quindi... Mi è rimasto male. Ci sono rimasto malissimo e non sappiamo dove attaccarlo. Siamo tornati a Piazza delle Erbe, guardate che bella di giorno. Siamo tornati a mozzarella con mozzarella e messi in calza. e... Siamo tornati a Piazza delle Erbe. Ho finito di mangiare, adesso siamo alla Torre dei Lamberti. Siamo tornati a Piazza delle Erbe. Non devi farmi male. Piano! 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 guarda guarda c'è un'altra che ci può ancora fare e noi ci lasciamo ancora fare salutate salutate Valentina raga questa è una ghironda queste frecce hanno tutte guardate dove siamo arrivati su questo ponte ma io non so dove attaccare il lucchetto amore dov'è che lo attacchiamo ma non ci sono punti non ci sono punti dove attaccare i lucchetti perché poi li staccano tutti ci ha detto una signora sentiamo un peso e Franci mi ha legato Chloe alla borsa e Chloe ti segue? ho trovato un negozio bellissimo ma mica hanno tipo le cose dei maghi la Nimbus 2000 sono i veri intenditori di Harry Potter ne capiscono ne capiscono Non ci credo, non me l'aspettavo così, hai visto? Per rimanere umile ho messo la foto di uno meno di me dietro, giusto, giusto, bellissimo, ciao! Buon matrimonio, ragazzi! Vieni qua, fai vedere cosa è successo! No! E di che assi il giubbotto? Vai, una bella caccata fresca fresca di piccione! Eccola qua! Eccola qua! Eccola qua! E poi ci avviamo verso la macchina perché partiamo! Dai Chloe! Amore! Piccola! Chi è? Dai un bacino! Amore! Dai bacino! Ah, lei è dolcissima con tutti! Amore! Sì! Sì! Che buono! Guardala! Il nostro weekend si è concluso! Io spero che questo video vi sia piaciuto e che il nostro weekend sia stato di vostro gradimento! Noi ci siamo divertiti tanto! Tanto? Sì! No! Io non voglio andare via da qua perché è bello! Quindi se vi è piaciuto il video... È sempre così! Con la Vale quando andiamo da qualche parte no, io non me ne voglio andare! Io non voglio andare! E rimaniamo qui! Sì! Io rimango qui, amo! Tu vai a casa! Ok! Ok! Ci salutiamo! Ciao! Comunque ragazzi vi è piaciuto questo video cliccate like e ciao! Ciao ciao! Ultima ripresa dell'Arena, questa ve la devo fare!